Buonasera a tutti, ben ritrovati al Tg7 Basilicata. Questa edizione l'apriamo con una tragica notizia di cronaca, la morte di tre giovani a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale Pisticci San Basilio in provincia di Matera. Poco più che ventenni, Simone Luciano e Lucio Lopatriello erano studenti di Pisticci. L'automobile, una Mini Cooper si è prima scontrata contro un'altra auto e poi finita in una scarpata. Nell'altra vettura, una Polo, c'erano due persone che sono rimaste ferite in modo lieve. Due dei giovani sono morti all'istante, mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Si susseguono in quest'ora i messaggi di cordoio rivolti alla famiglia, da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Pisticci, oltre che delle comunità intorno, per stringersi al dolore di tre vite strappate alla vita troppo presto. Proseguiamo. Il procuratore generale Armando Dalterio, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Potenza, ha annunciato che entro la prossima primavera è prevista in Basilicata l'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia. Per Francesco Curcio, procuratore capo della Repubblica di Potenza, è una vittoria per la Procura di Potenza. Avremo, dice Curcio, una forza di polizia specializzata che coadiuverà la Direzione Distrittuale Antimafia alla Procura di Potenza, occupandosi esclusivamente del contrasto alla criminalità organizzata. Sarà collocata a Potenza nei pressi del Tribunale. Andiamo alle notizie relative ai contagi da Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati processati 6.291 tamponi, di cui 1.081 risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrati 960 guarigioni. Sono 94 al momento le persone ricoverate negli ospedali luccani, di cui 4 in terapia intensiva, 3 a Potenza e 1 a Matera. Siamo davvero in chiusura. Vediamo che cosa ci attende a livello meteorologico. Domani 23 gennaio, una giornata a tratti nuvolosa con probabilità di precipitazione sui settori interni appenninici. Temperature stazionali. Per questa sera è davvero tutto. L'appuntamento è domani alla stessa ora. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.